Disqualifica a Oncu per l'episodio della gara in moto 3, volevo il tuo... Oh, cioè, grandi, grande notizia, veramente? Bello. Allora, io mi dispiace per Oncu, togliamo lui, ecco, però sono matti, sono matti e la situazione è tragica, è difficile, cioè devono fare veramente qualcosa, perché stanno succedendo un sacco di cose e oggi io ho avuto una paura mostruosa, anche perché c'era Migno nel mezzo, ma a parte Migno, tutti, anche a costa, ha rischiato di brutto. Primo problema è far ripartire quelli della moto 3 con 5 giri, è veramente la roulette russa, sono matti, secondo me non è una scelta giusta. Però più grave di questo, devono dare delle gare di sospensione ai piloti che tagliano la strada nel rettilineo, perché è da anni che ne parliamo e bisogna che stanno a casa, secondo me, perché così ci si fa male e non si può poi... ognuno dice che è colpa dell'altro, ma comunque i piloti, quelli sopra le righe, sono più o meno quelli, ecco. Uno che guarda le gare, anche se non è un marshal, li vede e bisogna che non corrono, secondo me, perché sennò così è una carneficina.